Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia per il campionato 2023-24, il nuovo, la maglia del Palmeiras in versione fan, la maglia di casa. La maglia del Palmeiras in versione. A me questa maglia piace tanto. Nella mia classifica prende 4 stelle. Molto bella la trama con questa sfumatura di verde e secondo me molto molto bella il bordino che c'è sul colletto e sulle maniche. Qui in alto vedete il costo. Ogni volta dico le stesse cose, un prezzo molto basso e molto conveniente per una maglia fatta benissimo. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando, mettete un grosso like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.